Un Avellino Abulico esce, ancora una volta, tra i fischi assordanti del Partenio Lombardi. La squadra dei mister Carmine Gautieri esce sconfitta dalle muramiche contro il Catania, una sconfitta di misura che fa male per la classifica e per il morale, con appena un punto nelle ultime due partite e sempre solo un punto nelle ultime tre gare casalinghe contro le siciliane Palermo, Messina e appunto Catania. Al Partenio, che la partita non sia in discesa, lo si capisce già dal primo minuto, quando Ciancio fa un intervento sconsiderato con l'arbitro Bordin, che lo grazia, ammonendolo soltanto. Il match non è vibrante, le occasioni non fioccano, ma i biancoverdi sembrano più convinti. Ci provano prima all'undicesimo minuto, quando Carriero crossa in mezzo, con Kragol che si inserisce senza però, di testa, riuscire a trovare lo specchio. Poi, al diciottesimo minuto, quando un bello spunto, Murano Canutè, porta quest'ultimo alla conclusione, che viene però ribattuta da Zanchi. Verso la fine della prima frazione, sono ancora i lupi a rendersi pericolosi. Cross di Kragol, stanca piano, smanaccia favorendo Dossena, col difensore che però di testa non riesce a centrare la porta sguarnita. La ripresa vede pian piano il lento e inesorabile calo dei lupi, che ci provano con Kragol, la cui punizione termina però alta, e poco più tardi con Rizzo, che tenta la conclusione da posizione defilata, su cui l'estremo difensore Tneo dice no. Al sessantatresimo minuto la beffa, Cataldi in verticale pesca Sipos, che supera Silvestri e batte forte. Il gelo sui gradini del Partenio, ma il tifo riacquista vigore un paio di minuti più tardi, quando Aloi invola Murano in porta, col numero 9 atterrato da Lorenzini, che viene espulso dall'arbitro per fallo da ultimo uomo, Catania in dieci. Proprio in quel frangente ci riprova Kragol su punizione, tentando di sorprendere il portiere sul suo palo. Ottima la risposta in corner. Avellino anche sfortunato, perché a 20 dal termine, un cross di Kragol, deviato da Rosaia, stava per finire in porta, la sfera però la misce il palo e si allontana. Nemmeno i cambi provano a dare lo sprint decisivo ai lupi, che tentano di inerzia di pareggiarla, senza costruire manovre ragionate, senza colpi estemporanei e senza la giusta cattiveria. L'ultimo squillo arriva per mano di Plescia. Anche stavolta, però, Stancapiano dice di no. Dunque, un'altra sconfitta per un avellino nervoso e poco lucido. E ora, anche il secondo posto, sembra diventato una chimera.